benvenuti a questo webinar sul nuovo credito d'imposta transizione 5.0 andiamo subito a vedere quello che è il programma di questo di questo webinar di questo seminario partiremo dall'analizzare i beneficiari ammessi a questo tipo di norma su questo diciamo l'evoluzione normativa ha inserito qualche cosa di novità vedremo quelli che sono gli interventi ammessi e anche su questo con le ultime normative abbiamo avuto delle evoluzioni andremo a ripassare quella che è l'agevolazione come strutturata l'agevolazione vedremo assieme un esempio numerico per capire poi dal punto di vista pratico come va utilizzata come e che tipo di risultati da questa norma e alla fine vedremo un po la parte di adempimenti con le relative scadenze devo fare questa premessa soprattutto in questo caso perché si tratta di una norma che si sta stratificando e che sta evolvendo nel tempo e quindi ci aspettiamo e mi aspetto vuol dire che nei prossimi giorni nelle prossime settimane nei prossimi mesi escano delle interpretazioni ulteriori ed escano degli atti normativi ulteriori che potrebbero modificare quello che stiamo vedendo qui assieme oggi quindi lo scopo di questa presentazione è divulgativo di informazione generale ma ovviamente quando deciderete di andare a approfondire questo tipo di incentivo quindi andare andare ad applicarlo vi invito ovviamente a fare riferimento al bando e alla normativa ufficiale detto questo vi due parole su chi sono mi occupo sono fan ancora sotto e mi occupo di incentivi ed agevolazioni per le aziende ovviamente non lo faccio da solo ho alle spalle una struttura che si occupa di coordinare di mettere a disposizione delle aziende tutte quante quelle che sono le competenze necessarie per ottenere questi incentivi e come vedremo nel caso particolare di transizione 5.0 la multidisciplinarietà è un elemento particolarmente interessante e necessario per poter per poter diciamo andare a richiedere questo incentivo quindi riepilogando mi occupo di perizie industria 4.0 e di perizie per la transizione 5.0 e certificazioni energetiche 5.0 mi occupo di tutta la normativa fiscale relativa a brevetti software e disegni e tutta la parte diciamo di pratiche di credo imposta ricerca e sviluppo ci occupiamo di tutti i bandi nazionali quindi invitaglia simest bandoine e tutti quelli che sostanzialmente escono con compertura nazionale ci occupiamo anche dei bandi regionali e infine ci occupiamo della formazione finanziata e l'altro elemento diciamo particolarmente interessante nel momento in cui si parla di transizione 5.0 passiamo a l'argomento di questo webinar con la circolare operativa che è stata pubblicata dalla gse e l'attivazione della piattaforma informatica ad oggi diciamo il credo imposta transizione 5.0 è pienamente operativo quindi si possono fare le prenotazioni e è stata attivata anche la parte di piattaforma per fare comunicazioni di conclusione quindi ad oggi diciamo possiamo presentare questo tipo di pratica dall'inizio alla fine quindi potenzialmente già ottenere il credo imposta spettante questo è importante perché come vedremo anche in seguito la normativa prevede che gli investimenti ammissibili siano già quelli a partire dal primo gennaio 2024 come avevo già accennato c'è stata una stratificazione normativa che ovviamente complica non poco l'interpretazione di quella che è la normativa vigente attuale siamo partiti col decreto legge del 2 marzo 2024 numero 19 che è stata diciamo che è stato l'atto che ha introdotto questo nuovo concetto di transizione 5.0 che decreto che ha subito delle integrazioni attraverso degli emendamenti su altri decreti legge in corso di attuazione e quindi già una prima stratificazione il decreto legge prevedeva già al suo interno la previsione che ci fosse un ulteriore atto che era il decreto dotativo che è stato effettivamente pubblicato dal ministero per le imprese per il made in italy il 24 luglio 2024 a fianco a questo sono stati dopo di questo state ulteriormente modificate alcune piccoli alcuni piccoli dettagli non di poco conto per la verità attraverso il decreto legge omnibus 113 ed infine è uscita la circolare operativa del mimit gse il 16 agosto 2024 e anche questa ha avuto dopo poche ore o pochi giorni un errata courage che ha cambiato non di poco quello che era l'ambito applicativo della della norma è stato un intervento puntuale su un singolo su un singolo punto della circolare però diciamo ha cambiato quello che era sostanzialmente espresso nella precedente circolare operativa sono attese le fac del mimit quindi un un elenco di di ulteriore chiarimento che saranno pubblicate a breve e che comunque occorre tenere conto che probabilmente saranno implementate via via nel tempo quindi questo è il quadro un po normativo particolarmente complesso perché come vedete già qui abbiamo diversi atti normativi che si sovrappongono con anche delle problematiche dal punto vista del coordinamento di questi ambiti normativi però diciamo una volta compresa la difficoltà in realtà ci siamo ci sono anche i consulenti insomma che servono per aiutare le imprese a districarsi tra questo tipo di selva norma normativa passiamo a quelli che sono i beneficiari io cercherò di riportare i termini previsti dalla normativa in maniera da dare maggiore chiarezza possibile dove necessario ovviamente in interpreterò e andrò ad aggiungere nuovi termini i beneficiari sono tutte le imprese residenti nel territorio dello stato e le stabili organizzazioni del territorio dello stato di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica del del soggetto dal settore economico di appartenenza quindi sono ammessi tutti i settori dalla dimensione quindi va bene sia per le micro imprese che per le grandi imprese e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa come sapete ci sono alcuni contribuenti che determinano in maniera forfettaria il reddito ecco sono ammissibili potenzialmente anche quelli attenzione che stiamo parlando di imprese e non di professionisti quindi questa è una discriminante alla quale fare fare attenzione anche perché in realtà come vedremo poi il tutto l'impianto normativo è ovviamente pensato per le imprese ci sono però delle esclusioni esplicite che andremo poi a vedere derivate soprattutto dal regime europeo di sostegno a questa norma gli investimenti ammessi sono quelli nuovi effettuati dagli anni negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello stato italiano nell'ambito di progetti innovazione che significa 4.0 sostanzialmente da cui consegua una riduzione di consumi energetici quindi qui ho sottolineato e messo in rosso questo concetto perché la differenza che c'è tra il 4.0 e il 5.0 è la riduzione dei consumi nel 5.0 deve esserci oltre che devono esserci oltre che i requisiti del 4.0 anche prevista una riduzione dei consumi energetici sempre per quanto riguarda gli investimenti ammessi vedremo vediamo qui una formulazione particolarmente complessa di definizione qui facciamo riferimento ad alcune esclusioni che hanno delle eccezioni quindi queste eccezioni in realtà sono delle significa che quello che andremo a citare è ammesso adesso vi vediamo meglio allora non sono ammissibili quindi queste sono le esclusioni attività direttamente connesse all'uso di combustibili fossili compreso l'uso a valle ad eccezione e quindi qui torniamo a parlare di quello che è ammesso ad eccezioni di attività e attivi di quella lettera b che sono sostanzialmente le attività nell'ambito della degli scambi ets per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento dei stessi senza combustibili fossili quindi riepilogando in via generale i combustibili l'uso di combustibili fossili non è ammesso quello che usa combustibili fossili non è ammesso la normativa tranne che se questo questa attività queste attività sono fanno parte del di quelle sottoposte allo scambio ets quindi attenzione che qui ovviamente andrà approfondito caso per caso andiamo avanti con una fattispecie particolarmente interessante è quella che vi citavo prima è stata modificata dalla dalle rata college e quindi un'ulteriore eccezione all'utilizzo di combustibili fossili è quello degli attivi quali veicoli agricoli e forestali come definite il regolamento dell'unione europea 167 2013 e del regolamento dell'unione europea 1628 del 2016 per i quali l'utilizzo dei combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile l'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale passaggio a un veicolo con motore stage 1 o precedente ad uno con motore stage 5 secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti allora qui banalmente stiamo parlando dei veicoli agricoli e forestali per gli ulteriori casi ovviamente occorre un maggiore approfondimento l'importante è che rispettino quei regolamenti e stiamo dicendo sostanzialmente che i trattori agricoli e forestali sono ammessi a questa normativa però deve esserci un passaggio da un veicolo stage 1 quindi stage 1 a uno stage 5 stage 5 quindi che sono sostanzialmente le corrispondente dell'euro 5 e dell'euro 1 per quanto riguarda i trattori quindi ammessi però deve esserci questo tipo di passaggio tengo a far a precisare che come vedete ho riportato e barrato invece la questione delle macchine mobili non stradali come definite il regolamento europeo 1628 questo diciamo è quello che è stato tolto e quindi sostanzialmente qui quello che stiamo dicendo è che le macchine mobili non stradali allo stato attuale non sono ammesse il fatto che le abbiano tolte con le rata courage ha messo anche in particolare evidenza che l'intenzione è quello di non ammettere questo tipo di normativa quindi sono escluse le macchine mobili non stradali riferite al regolamento 1628-2016 andiamo avanti con gli ambiti non ammessi al beneficio abbiamo visto le attività, la lettera A che le attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili sono escluse anche le attività nell'ambito del sistema di scambio di quote e di emissione dell'Unione Europea ETS e anche qui abbiamo già visto l'eccezione sono escluse le attività connesse a discarichi di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico e biologico anche qui ci sono delle eccezioni e sono escluse le attività nel cui processo produttivo venga generato un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi quindi attenzione che questa è la prima verifica da fare che come avete visto è anche particolarmente insidiosa per capire se possiamo andare a usufruire del 5.0 o meno Passiamo ora alle spese ammesse sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali esercizio dell'impresa di cui è legati A e B annessi a legge 11 dicembre 2016 numero 232 che è quella che ha sostanzialmente introdotto Industria 4.0 quindi gli allegati A e B di Industria 4.0 quelli sono i beni che sono ammessi attenzione che dentro all'allegato A e B non c'è il fotovoltaico e poi vedremo perché ho inserito questa precisazione che siano interconnessi e che attraverso gli stessi quindi beni nel legato A e B attraverso questi beni si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o in alternativa una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati e qui vedremo anche le novità che ci sono state in questa definizione dei processi interessati non inferiore al 5% quindi questo è l'ambito di ammissività per quanto riguarda le spese c'è stato un ampliamento del legato B con questa normativa e in particolare sono ammessi in questo caso con il 5.0 anche i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata o introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo Energy Dashboarding inoltre, sempre solo per la 5.0 stiamo parlando in questo caso sono ammessi i software relativi alla gestione di impresa tutti i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui è la lettera A quindi banalmente gli ERP classici diciamo vengono ammessi da questa norma da questo richiamo normativo passiamo alle fonti rinnovabili e in particolare viene detta la norma nell'ambito dei progetti di innovazione quindi deve esserci un progetto di innovazione con la legato A e B che conseguono la riduzione dei consumi energetici quindi devono essere prima conseguiti la riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo a excezioni delle biomasse comprese gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta in questo per meglio specificare sono agevolabili le spese relative ai gruppi di generazione dell'energia elettrica i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica nonché misuratori dell'energia elettrica funzionale a produzione di energia elettrica gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi con elettrificazione di consumi termici alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deribera arera che è citata sono inoltre ammessi i servizi ausiliari di impianto e gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta il dimensionamento dei impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di Qualcomm 1 è determinato considerando una produciviltà massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva determinato come la somma dei consumi medi-annui registrati nell'esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva calcolati tramite le formule e fattori di conversione di cui è l'allegato A che è stato pubblicato con la circolare operativa il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno di calore di processo quindi solo al calore di processo con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare sono considerate ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui è l'articolo 12,1 lettera ABC del decreto legge 9 dicembre 2023 numero 181 per semplificare i moduli fotovoltaici sono ammessi i moduli fotovoltaici prodotti negli stati membri dell'Unione Europea con l'efficienza a livello di modulo di almeno pari al 21,5% e questa è la prima fascia la seconda fascia in rosso vedete quella che è stata anche un cambio una correzione apportata dal decreto legge Omnibus che citavo prima e ora la formazione attuale della norma è moduli fotovoltaici con celle entrambi prodotti negli stati membri quindi sia i moduli che le celle nei stati membri dell'Unione Europea con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% ed infine quello dell'ultima fascia sono i moduli prodotti negli stati membri dell'Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogenzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24% per quelli che sono nella prima fascia l'incentivo viene preso pari a quello che si è determinato con l'investimento innovativo quindi quello che è stato determinato con gli investimenti 4,0 per quanto riguarda la seconda fascia quindi quelli con rendimento sopra il 23 almeno pari al 23,5% la determinazione dell'alicota è fatta moltiplicando l'alicota di base per 120 mentre l'ultima fascia quella più difficile più complicata anche da reperire sul mercato ottiene un beneficio maggiore avendo la percentuale di incentivo moltiplicato per 140 lo riporto qui brevemente il concetto è quello che abbiamo espresso qui i beni di questo articolo quindi delle rinnovabili entrano in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione questo è determinante lo vedremo poi perché quando faremo un po' il riepilogo delle scadenze qui trovate la tabella 9 che indica i parametri di calcolo degli euro a kilowatt picco dei sistemi da fonti rinnovabili vedete il fotovoltaico ha un costo massimo ammissibile di 1350 euro kilowatt per potenze inferiori ai 20 kilowatt e arriva ad avere un massimo ammissibile di 800 euro per impianti superiori ai 1000 kilowatt per quanto riguarda poi gli altri le altre fonti rinnovabili eolica idraulica e geotermica vedete qui che ci sono anche per loro dei massimali previsti la tabella 10 ha i parametri di calcolo sempre dei massimali di costo per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili quelli che abbiamo citato prima e vedete come sono composti a seconda anche qui con due scaglioni e con differenziazione per quanto riguarda la fonte rinnovabile utilizzata passiamo alla formazione del personale sempre nell'unico pacchetto transizione 5.0 è previsto che le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31 paragrafo 3 del regolamento dell'Unione Europea 651 del 2014 che è quello che descrive in realtà quelle che sono le spese ammesse per la formazione ai fini delle agevolazioni finalizzate all'acquisizione e al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti effettuati in beni delle lettere A e B in ogni caso con un massimo di 300.000 euro e a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti esterni che poi vedremo chi sono i percorsi di formazione possono avere ad oggetto uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nel legato 2 del decreto interministeriale 24 luglio 2024 e devono includere obbligatoriamente almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore per quanto riguarda i moduli A da A4 e almeno 4 ore per quanto riguarda i moduli da B1 a B4 qui avete gli allegati 1A e 1B vedete che sono da una parte le competenze relative alla transizione digitale dall'altra le competenze relative alla transizione energetica le ho invertite in realtà e ho evidenziato quelli che sono diciamo la parte di competenze tra le quali scegliere i moduli obbligatorie e quelle che invece sono facoltative come vedete quella nell'ambito della digitalizzazione ricalca quello che era la formazione con il bonus formazione 4.0 ed è stata introdotta invece la tabella 1A che ha a che fare con l'ambito energetico i soggetti abilitati alla formazione sono anche in questo caso sostanzialmente confermati quelli che erano ammessi come soggetti esterni per la formazione 4.0 quindi abbiamo tutti i soggetti accreditati alla regione o ai fondi interpersonali le università i soggetti che hanno la certificazione di qualità 9001 con settore A37 che è quello appunto della formazione i centri di competenza ad alta specializzazione gli European Digital Innovation Hub e Seal of Excellence e infine gli ETS ecco in questo caso non è ammessa la formazione interna come era prevista per il 4.0 quindi non si può configurare la formazione fatta con un tutor interno che ha dei discenti sempre interni all'azienda ma esclusivamente in questo caso dobbiamo riferirci a formazione che deve essere tenuta da soggetti esterni riepiloghiamo qui l'approccio che occorre avere per capire se stiamo parlando di 5.0 o meno la prima cosa da verificare è se gli investimenti che stiamo facendo sono nel legato A e B ripeto nel legato A e B non c'è l'impianto fotovoltaico quindi la prima verifica che dobbiamo fare è se abbiamo almeno un bene nella legato A e B nel caso in cui non ci sia non stiamo parlando né di 5.0 né di 4.0 e quindi non possiamo nemmeno parlare di fonti rinnovabili incentivate con questa normativa portate pazienza se calco la mano ma è una delle principali domande che mi è stata fatta in questi ultimi tempi sul fotovoltaico nel momento in cui abbiamo questi beni in allegato A e B dobbiamo verificare se abbiamo una riduzione dei consumi di almeno il 3% a livello di struttura produttiva o del 5% a livello di processo interessato nel caso non ci sia questa riduzione fatta con i beni in allegato A e B quindi escluso il fotovoltaico e le rinnovabili siamo nell'ambito del 4.0 ma non siamo nell'ambito del 5.0 e quindi nemmeno dell'incentivazione di fonti rinnovabili attraverso questa normativa una volta che abbiamo questo tipo di situazione dobbiamo andare a verificare le aliquote di riduzione dei consumi perché sono scalettate quindi abbiamo sostanzialmente il 3, 6 e 10 per la struttura produttiva il 5, 10 e 15 per il processo interessato che corrispondono sostanzialmente poi vedremo in una tabella di riopilogo ha delle aliquote maggiorate con queste aliquote in mano andremo a inserire quindi un investimento che è trainato andremo ad inserire le fonti rinnovabili per esempio il fotovoltaico in questo caso andremo poi a verificare in quale tipologia di fotovoltaico stiamo andando abbiamo preso in considerazione e in base a quello andremo a calcolare la percentuale di incentivo per il fotovoltaico quindi base di calcolo l'aliquota calcolata con la riduzione dei consumi senza il fotovoltaico e possibilità di incrementare questa aliquota scegliendo dei pannelli fotovoltaici più performanti sempre a fianco al calco dell'aliquota di riduzione dei consumi andiamo poi a verificare le soglie di formazione la formazione viene incentivata con la stessa aliquota che è stata terminata per i beni in allegato A e B torno un attimo sul fotovoltaico allora siccome diciamo come dicevo prima una delle principali domande che mi è stata fatta è quella di incentivare il fotovoltaico allora come avete capito il fotovoltaico da solo non è incentivabile però se questa è la vostra intenzione quindi avete desiderio di installare un impianto fotovoltaico vi invito a contattarmi perché in realtà nella gran parte delle situazioni che abbiamo fin qua fin qui analizzato in realtà siamo comunque riusciti a individuare dei beni in allegato A e B nei progetti oppure in termini di efficienza energetica che non fa ovviamente male alla all'azienda quindi degli investimenti magari in efficienza energetica tutto sommato contenuti che hanno consentito alle aziende e poi di andare a effettuare gli investimenti agevolati nell'ambito delle fonti rinnovabili come dicevo prima qui abbiamo la tabella di riepilogo delle aliquote che come vedete varia sia per prestazione energetica che per scaglioni di investimento lo scaglione funziona come quello del 4.0 quindi fino a 2 milioni e mezzo di euro si ha un'aliquota poi per la quota che supera questo importo quindi da 2 milioni e mezzo a 10 milioni abbiamo l'applicazione solo per la parte eccedente di questa aliquota fino ad arrivare all'ultimo scaglione che è da 10 milioni a 50 milioni per i quali si applica l'ultimo scaglione di aliquota le soglie sono tra il 6% a livello di struttura produttiva tra il 35% come aliquota di base ridotta poi all'aumentare dell'investimento tra il 6 e il 10 un'aliquota del 40% se otteniamo risparmine riduzione dei consumi a livello di struttura produttiva oltre il 10% andiamo con un'aliquota di base del 45% stessa cosa vale per il processo interessato dove abbiamo il primo scaglione che è tra il 5 e il 10% il secondo scaglione del 40% tra il 10 e il 15% e l'ultimo scaglione quello oltre il 15% che ci consente un credo imposto del 45% per gli investimenti effettuati mediante i contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto di beni quindi sostanzialmente stiamo dicendo che è ammesso anche l'acquisto in leasing abbiamo un'ulteriore precisazione che dice per gli investimenti in beni immateriali di cui è allegato B utilizzate mediante soluzioni di cloud computing ossia con risorse di calcolo condivisi e connesse si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza quindi un'ulteriore estensione da questo punto di vista qui un'ulteriore parte di agevolazione che poi fa diciamo il paio con quello che è andremo poi a vedere come procedura una procedura che chiede numerosi adempimenti ecco per coprire questi i costi di questi adempimenti l'agevolazione prevede che per le piccole e medie imprese quindi sono escluse le grandi da questo beneficio le spese sostenute per addempiere all'obbligo di certificazione sono quella diciamo legata al fattore energetica sono riconosciute in aumento del credito imposto per un importo non superiore a 10.000 euro fermo restando il limite massimo quindi la certificazione fino a 10.000 euro è sostanzialmente riconosciuta pari pari come incentivo quindi non incide per quanto riguarda l'azienda dal punto di vista dei costi per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti le spese sostenute per addempiere l'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo quindi anche per quanto riguarda l'obbligo di certificazione della documentazione contabile per le imprese non obbligate abbiamo un ulteriore incentivo di 5.000 euro che va a coprire questo costo il credo imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dei corsi 5 giorni della regolare trasmissione da parte del GSE all'agenzia delle entrate dell'elenco delle imprese beneficiari e dentro la data del 31 dicembre del 2024 quindi presentando appunto il modello F24 quindi è compensabile in maniera diretta quindi al 100% maturo un credito di 100 euro io lo posso compensare tutto maturo un credito di 2 milioni di euro ecco posso compensarlo tutto solo però la compensazione completa se riesco a compensarlo entro il 31 dicembre 2025 per l'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data quindi al 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo quindi maturo un credito di 100 mila euro ne utilizzo 50 mila euro entro il 30 dicembre 2025 i 50 mila euro che rimangono sono riportati a nuovo e vengono sostanzialmente compensati 10 mila euro nel 2026 10 mila euro nel 2027 e così via per i 5 anni successivi il credo imposta non concorre alla formazione del reddito nonché alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva i fini del rapporto di cui articolo 61 e 109 del comma 5 del testo unico numero 917 anche qui attenzione questo è un'informazione importante soprattutto quando si va a cumulare con altre altre agevolazioni per evitare il superamento del massimale previsto come introdotto passiamo a quelle che sono le cumulabilità nella norma c'è scritto che il credito di imposta è cumulabile con le agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto il credito di imposta non è cumulabile in relazione ai medesimi costi ammissibili con il credito di imposta industria 4.0 nonque con il credito di imposta ZES unica e ZLS allora io l'ho riportata come è la norma allo stato attuale mi aspetto che su questo tipo di definizione ci siano dei chiarimenti diciamo che la versione che oggi principale come interpretazione è che debba essere letta come è cumulabile esclusivamente con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali escludendo sostanzialmente quelli che sono i fondi diciamo le agevolazioni finanziate con risorse europee però come vedete insomma la norma è stringata e non particolarmente esaustiva per quanto riguarda appunto la limitazione di questa cumulabilità quindi mi invito a fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui andrete ad applicare questa normativa e ovviamente a chiedere a chi vi sta seguendo speriamo di essere noi a chi vi sta seguendo su questa agevolazione come interpretare che tipo di perimetro andare a utilizzare per le cumulabilità che sono un ambito assolutamente interessante poi vedremo anche un esempio numerico perché sono particolarmente interessanti questo è un esempio numerico supponiamo di avere un investimento in beni materiali di 500.000 euro un investimento in beni immateriali di 40.000 euro un impianto fotovoltaico in autoconsumo di 80.000 euro e un investimento in formazione di 40.000 euro l'importo totale quindi dell'investimento è 660.000 euro e partiamo con le considerazioni la prima considerazione che facciamo è quella relativa al fotovoltaico stiamo parlando di un fotovoltaico in classe 2 e quindi sostanzialmente qui abbiamo diritto alla maggiorazione e quindi la base imponibile passa da 660 a 692.000 euro perché come vedete è stata aumentata la base imponibile degli 80.000 euro e verifichiamo in questo caso che a livello di struttura produttiva siamo in fascia 3 quindi quella massima e quindi il credito di imposta applicato di base è il 45% applicando la maggiorazione al fotovoltaico e l'alicota del 40% agli altri investimenti abbiamo un credito di imposta di 311.000 euro 400 che significa avere un credito di imposta del 47 18% quindi questa percentuale la vedete diciamo diversa da quella base appunto perché c'è l'incidenza della maggiorazione che abbiamo ottenuto con il fotovoltaico calcoliamo il vantaggio fiscale dall'esenzione Ires e Irap qui ovviamente abbiamo fatto l'esempio della società di capitali e in questo caso classica e quindi con una tassazione del 27 e 9% e quindi il beneficio derivante da questo credito imposta è del 13 e 16% se avete dubbi su come si determina questa percentuale nel sito rete agevolazioni trovate anche un articolo di approfondimento del funzionamento di questo tipo di vantaggio fiscale quindi questo vantaggio corrisponde in termini economici 86.880 euro supponiamo che portiamo in agevolazione con la nuova Sabatini Industria 4.0 500.000 euro quindi solo i beni materiali diciamo su questo poi si potrebbe fare una discussione una valutazione ulteriore sia per quanto riguarda il fotovoltaico che per quanto riguarda i beni i materiali ma per tenere un po' più semplice l'esempio supponiamo solo i beni materiali di portarli con la nuova Sabatini ed abbiamo in questo caso un beneficio di 50.450 euro anche qui se volete approfondire il funzionamento della Sabatini ci sono degli articoli nel sito diretta agevolazioni il totale del vantaggio dall'applicazione di questo schema di agevolazione è di 448.000 euro 730 a fonte di un investimento di 660.000 euro e quindi sostanzialmente su 660.000 euro rimangono a carico dell'azienda 243.000 euro pari al 35,15% quindi capite che la combinazione di questa norma e l'applicazione di questa norma porta dei risultati veramente molto molto interessanti vediamo brevemente al meccanismo di recapture attenzione a a questa a questo obbligo se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati finalità estranei all'esercizio di imprese ovvero destinati a strutture produttive diverse quindi non si possono spostare i beni da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto nonché in caso di mancato esercizio di opzione per il riscatto nell'ipotesi dei beni acquisiti in locazione finanziaria entro e dell'ottun dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione direttamente riversato dal beneficiario dentro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata l'ipotesi senza applicazione di sanzioni e interessi attenzione che si applicano in senso positivo in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 35 e 36 della legge 27 dicembre 2017 2005 in materia di investimenti sostitutive sostanzialmente questa disposizione prevede che nel caso io sostituisca un bene con uno di pari livello per le caratteristiche della norma di cui stiamo parlando di pari o superiore livello il credo d'imposta non viene a mancare quindi non rientriamo più nel caso del recapture però questo è la fattispecie dobbiamo sostituire gli investimenti che abbiamo già in essere con altri che siano di pari o superiore livello sia in termini di efficienza energetica che in termini di requisiti 4.0 la riduzione dei consumi base diciamo della 5.0 è riproporzionata su base annuale ed è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti quindi se iniziamo nel 2024 la base di calcolo è quella del 2023 al netto della variazione dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico ovviamente questa è una complessità non di poco conto che dovrà essere risolta dal certificatore energetico per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi anni riferibile a uno scenario controfattuale per l'impresa messa al credo imposta l'aspettanza del beneficio è comunque subordinata a rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori ricordo che è così anche per il 4.0 e ricordo di fare particolare attenzione ad entrambe questi due requisiti e verificarli puntualmente il credo imposta non spetta all'impresa in stato di liquidazione volontaria fallimento liquidazione coatta amministrativa concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad alta procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la declarazione di una di tali situazioni perché ovviamente non è assicurata la continuità dell'azienda sono esclusi anche chi ha sanzioni interdettive di cui ha la legge 231 veniamo alla procedura di comunicazione ex ante specificata dal regolamento operativo pubblicato dal GSE e dal MIMIT si parte con la definizione del progetto l'ho indicata ed evidenziata perché la parte è fondamentale quindi non aspettate di partire subito con il video di documenti occorre prima definire bene qual è il progetto che andremo a presentare anche perché poi come vedrete abbiamo delle scadenze che sono molto impellenti una volta definito il progetto e raccolta tutta la documentazione necessaria che vedremo nella slide successiva si invia la comunicazione ex ante al GSE nel momento in cui il GSE riceve la comunicazione ha 5 giorni di tempo per dare la ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione oppure chiedere delle integrazioni in questo caso le integrazioni dovranno essere inviate al GSE entro 10 giorni e entro ulteriori 5 giorni il GSE deciderà se dare il mancato accoglimento la comunicazione perché ritiene che le integrazioni non siano sufficienti oppure passare ad inviare la ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione attenzione che qui non è una validazione del progetto ma il GSE si occupa esclusivamente di verificare la completezza della documentazione quindi la regolarità formale di quello che viene inviato quindi attenzione a questo dettaglio non trascurabile entro 30 giorni dalla ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione occorre inviare al GSE le fatture e i bonifici di acconto del 20% attenzione che questo è un termine che ha delle conseguenze pesanti quindi una volta che abbiamo inviato diciamo l'avvio dell'investimento quindi fatture e bonifici entro 5 giorni ci arriva la convalida della comunicazione dell'avanzamento del progetto di innovazione e quindi la conferma che la nostra prenotazione è valida oppure ci viene inviata dal GSE la richiesta di integrazione dove abbiamo appunto come prima 10 giorni in tempo per fornire questa integrazione e dentro ulteriori 5 giorni il GSE OC dà la ricevuta di mancato accoglimento della comunicazione che significa in realtà dover ripartire dall'inizio quindi attenzione che questo è determinante quindi in questo caso si riparte dalla prima comunicazione con tutte le conseguenze del caso che possono esserci sia in questa fase sia per quanto riguarda poi se dovesse arrivare una scassità di fondi quindi nel momento in cui cominceranno a esaurirsi i fondi questo diventerà ancora più determinante come adempimento e quindi anche qui come detto prima o ci manda la ricevuta di mancato accoglimento oppure ci dà la ricevuta di comunicazione nel caso in cui appunto le integrazioni siano complete vediamo quelli che sono i documenti da allegare alla comunicazione ex ante abbiamo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che riepiloga tutti gli impegni che l'impresa si assume ovviamente il documento di identità da allegare alla rappresentante la delega l'eventuale delega alla presentazione della comunicazione la certificazione ex ante attenzione che la certificazione ex ante si basa su un documento tecnico una relazione tecnica che poi è anche definita che non va inviata al GSM ma che è necessario avere per i successivi controlli e che è il documento di base che va a spiegare come si ottengono i benefici in termini energetici che abbiamo riportato nella certificazione ex ante dobbiamo inviare la documentazione attestante di donità del soggetto certificatore il documento di identità del soggetto certificazione la dichiarazione di indipendenza imparzialità onorabilità e professionalità del certificatore e la dichiarazione relativa al titolare effettivo quindi come vedete anche dal punto di vista buro strettamente burocratico si tratta di una procedura complessa e che va portata avanti ovviamente da chi ha esperienze nella gestione di questo tipo di normativa quindi come vedete qui stiamo passando da una normativa come quella che era inizialmente 4.0 dove sostanzialmente avevamo pochi adempimenti da fare praticamente solo la perizia o la dichiarazione del legale rappresentante a una normativa definita di tipo semiautomatico ma che a mio avviso è più prossima quella di un bando dove occorre avere l'approccio al bando quindi a tutta una serie di atti preventivi all'avvio dell'investimento che servono per arrivare alla fine della procedura con l'ammissibilità definitiva a quello che è l'incentivo per cui stiamo concorrendo riporta la circolare operativa un'altra dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generato dalla piattaforma che sostanzialmente riepiloga l'invio dei documenti precedenti passiamo alla procedura per la comunicazione ex post una volta che abbiamo completato l'investimento quindi completato l'investimento del progetto quindi tutti gli investimenti del progetto sono stati completati dovremo qui ho esplicitato un po' meglio quelli che sono i passi rispetto alla fase precedente perché in realtà vengono chiesti ulteriori documenti quindi dovremo fare la relazione tecnica che come detto prima non va inviata al GSE ma va tenuta a disposizione per eventuali controlli dovremo fare la certificazione energetica ex post dovremo munirci della perizia industria 4.0 o della dichiarazione sostitutiva della legale rappresentante dovremo allegare le schede di rispetto del dnsh ovviamente rispetto del dnsh va verificato già in fase iniziale dovremo allegare la certificazione del revisore contabile ed infine dovremo inviare il tutto al GSE attraverso appunto la procedura di comunicazione ex post come prima il GSE in questo caso si prende 10 giorni di tempo per verificare i documenti e trascorsi questi 10 giorni dalla ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione in caso diciamo di mancanza di documenti o di non regolare invio il GSE comunica la notifica di integrazione e qui abbiamo 10 giorni di tempo per inviare le integrazioni anche qui attenzione che non è un controllo di merito ma è un controllo di tipo formale e quindi non è la validazione del progetto in realtà e quindi una volta inviate questa integrazione entro 10 giorni il GSE ha 5 giorni di tempo per dare la ricevuta di mancato accoglimento e la comunicazione di completamento oppure confermare il credo utilizzabile in compensazione attenzione che 10 giorni di tempo sono veramente pochi per integrare quindi su questa procedura occorre essere molto attenti anche alle tempistiche che sono in ballo come prima vediamo anche qui il riepilogo dei documenti che sono da inviare con la comunicazione ex post abbiamo la solita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il documento di identità del rappresentante la delega la presentazione le schede tecniche dns h relative agli investimenti realizzati attenzione che anche questo è un adempimento previsto e quindi vanno inviate queste schede dns h la certificazione ex post il documento di identità del certificatore l'attestato comprovante possesso della certificazione contabile e il possesso della perizia asseverata industria 4.0 il documento attestante l'identità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante la dichiarazione di indipendenza imparzialità imparzialità onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile della certificazione ex post la dichiarazione di indipendenza imparzialità onorabilità e professionalità del soggetto revisore legale dei conti l'attestazione rilasciata al produttore ha dimostrazione che i moduli fotovoltaici utilizzati per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare rispettino le caratteristiche che abbiamo visto in precedenza la dichiarazione relativa al titolare effettivo quindi avete visto anche qui una certa complessità dal punto di vista della gestione normativa degli alliempimenti burocratici torniamo sulla rilascio tecnica che è definita nella circolare operativa e viene spiegato che le informazioni di dettaglio utilizzate per determinare il risparmio energetico certificato relativa al progetto di innovazione in particolare l'individuazione dei processi produttivi impattati da progetto gli indicatori e i valori delle grandezze energetiche utilizzate negli algoritmi di calcolo indicati nonché i criteri e i beni alternativi disponibili sul mercato utilizzati per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale dovranno essere riportati in una relazione tecnica che dovrà essere conservata dall'impresa beneficiaria e resa disponibile per le eventuali attività di vigilanza e controllo quindi questo è un documento che è obbligatorio non è da inviare al GSE ma è obbligatorio tenere in azienda passiamo alle definizioni qui abbiamo una novità importante e positiva partiamo dalla definizione di struttura produttiva la circolare operativa dice la struttura produttiva concide con il sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella cartastale o su particelle contigue finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi aventi la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione di servizi o anche parte di essi purché dotato di autonomia tecnica funzionale organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione dei costi definizione diciamo che in alcuni casi potrebbe creare qualche problematica al fine della determinazione del risparmio energetico relativa alla struttura produttiva si specifica che i consumi energetici della stessa coincidono con la somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali ho evidenziato appunto che vanno sommati anche nel caso di valutazione della struttura produttiva anche i servizi generali passiamo invece alla definizione di processo interessato e il processo interessato coincide con il processo produttivo interessato alla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali in materiali nuovi di quei allegati A e B quindi quelli industria 4.0 nel caso in cui il processo produttivo sia costituito da più linee produttive in parallelo interessate dai medesimi input e che producono il medesimo output potrà essere considerato come processo interessato sulla parte oggetto di investimento in progetti di innovazione purché questa garantisca in autonomia la trasformazione dell'input nell'auto di processo questa è la novità particolarmente interessante diciamo che gli interpreti precedentemente non ritenendo gli interpreti e anche i funzionali del ministero avevano espresso un parere diverso da questo quindi per processo rientrano nell'ambito del processo interessato e quindi analogamente è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale purché questo garantisca in autonomia la trasformazione dell'input del processo nell'output di processo quindi è consentito anche l'investimento in un singolo bene materiale quindi questa è una novità molto molto importante perché si può andare a delimitare anche tutti quelli che sono i calcoli a questo processo interessato lo vediamo meglio nella figura 4 della circolare operativa come vedete qui è stato identificato un componente 1f che con le caratteristiche 4.0 e il processo interessato è quel bene 1f e solo quel bene quindi si può calcolare l'efficienza energetica del processo interessato con eliquote superiori ma con evidenti semplificazioni dal punto di vista del calcolo dell'efficienza energetica ulteriori definizioni anche qui particolarmente rilevanti per data del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso a seconda di quale condizione si verifichi prima quindi sostanzialmente sono ammissibili a questa agevolazione gli investimenti che hanno data di avvia successiva al 1 gennaio 2024 quindi non potete avere assunto impegni vincolanti prima di questa data abbiamo poi la definizione di data del completamento e si intende la data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone ed in particolare nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio che siano beni 4.0 la data coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali del testo unico su imposte sui redditi nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa finalizzati però all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo corrisponde con la data di fine lavori dei medesimi beni nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzata all'acquisizione e consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti equivale invece alla data di sostenimento dell'esame finale previsto dalla normativa passiamo a qualche esempio dello schema di lavoro per definire qual è la struttura produttiva da prendere in considerazione oppure il processo interessato da prendere in considerazione per il calco di efficienza energetica qui vediamo un esempio riportato sempre la circolare operativa il nostro investimento è il componente 2C che però ha una ricoduta anche sul bene 3C vedete che ci sono tre processi in parallelo e in questo caso possiamo prendere in esame il processo interessato come componente 1C 2C e 3C e quindi perimetrare il processo interessato in questo modo qui abbiamo invece l'investimento che riguarda la componente 1B e la componente 2C in un unico processo produttivo e in questo caso abbiamo la possibilità di prendere come processo interessato le due linee produttive quella che fatta dal componente 1B e quella fatta dove c'è il componente 2C e calcolare su questo l'efficienza energetica del processo interessato risparmio energetico abbiamo invece qui rappresentato il caso anche del software qui vedete che abbiamo un investimento nel componente 2C del processo produttivo 1 e poi abbiamo un software che incide nell'efficienza energetica del componente 1D del processo produttivo 2 quindi abbiamo un secondo processo interessato avendo due processi interessati in questo caso dobbiamo calcolare obbligatoriamente l'efficienza energetica e quindi il risparmio energetico relativamente alla struttura produttiva abbiamo qui poi il caso in cui il bene immateriale incida sull'efficienza energetica del componente 1B ma si è interconnesso senza avere benefici dal punto di vista energetico alla componente 1A in questo caso invece possiamo andare a calcolare l'efficienza energetica quindi il risparmio energetico per il solo processo interessato quindi per la componente 1D quindi attenzione che questa è una una situazione particolarmente interessante e come capite anche complessa da interpretare andiamo avanti con i criteri per la determinazione dei risparmi energetici la riduzione dei consumi energetici conseguibili è da esprimere in tonnellate equivalenti di petrolio in TEP quindi ed è determinata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e in materiali nuovi quindi quelli che andremo ad acquistare quindi la situazione ex post con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione situazione ex ante relativa alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento per situazione ex ante le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di una misurazione o di una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente alla data di avvio della realizzazione del progetto ed in particolare abbiamo come ipotesi per le imprese attive costituite da più di 12 mesi qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base di dati disponibili quindi quando abbiamo questi dati per le imprese attive costituite da più di 12 mesi qualora queste non dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinanti tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili per esempio schede specifiche tecniche modellizzazione anche attraverso l'utilizzo di software prove in situ analisi di mercato analisi dei volumi produttivi e quindi applicare questo tipo di impostazione quindi su stime fatte in questo modo per le imprese attive costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore ai 12 mesi qualora queste dispongono di dati misurati su consumi energetici dell'esercizio precedente alla data di avvio della realizzazione del progetto le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull'intera annualità per le imprese in nuova costituzione definite come imprese attive da meno di 6 mesi dalla data di avvio del progetto innovazione ovvero per quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e i servizi resi da meno di 6 mesi dall'avvio del progetto innovazione i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati in questo modo la determinazione dello scenario controfattuale attraverso la determinazione dello scenario controfattuale individuandolo rispetto a ciascun investimento nei beni di cui è legato 6 del DM transizione 5.0 individuando quindi almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato riferito agli stati membri dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo nei 5 anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione quindi bisogna andare a trovare tre beni alternativi a quello che stiamo acquistando che abbiano evidentemente consumi superiori occorre poi fare una determinazione della media dei consumi energetici medi-annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto la lettera quindi una volta che abbiamo individuato questi beni dobbiamo calcolare quella che sarebbe la media dei consumi energetici annui e poi si va a determinare il consumo e la struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di quelle le tre B gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico devono essere conformi alla direttiva europea 32 del 2014 quindi la direttiva MID e le normative tecniche di settore il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative come per esempio volumi e quantità prodotte o servizio erogato e alle condizioni esterne che possono incidere sulle prestazioni energetiche come la tipologia di prodotto o di servizio erogato le temperature il fattore di carico la stagionalità tale normalizzazione potrà essere effettuata attraverso l'individuazione di indicatore di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato qui la circolare operativa riporta alcuni esempi abbiamo per esempio il settore ceramico dove potremmo fare riferimento al consumo di energia termico elettrica rispetto alle tonnellate di prodotto ceramico lavorato quindi in TEP su tonnellata lavorata andiamo in fondo per i servizi acquedotto potremmo avere come parametro il consumo di energia elettrica rispetto ai volumi di acqua in uscita dall'impianto quindi in questo caso avremo un indicatore di prestazione che è TEP su metro cubo veniamo ora a quelli che sono i soggetti abilitati ed abbiamo gli EGE quindi gli esperti in gestione di energia l'ESCO gli ingegneri iscritti nella sezione A e B dell'albo professionale nel loro albo professionale nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni meccanica ed efficienza energetica ed impiantistica elettrica ed automazione con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi veniamo a ulteriori adempimenti previsti da questa normativa l'impresa beneficiaria è inoltre tenuta a conservare gli ordini e fatture attestanti pagamento in acconto che dovranno essere unicamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto di innovazione oggetto dell'agevolazione riportando oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento il codice identificativo al forno numerico univoco rilasciato alla piattaforma informatica contraddistinto dalla struttura TR5 e una serie di numeri è riferimento alle disposizioni di cui l'articolo 38 del decreto legge 19 2024 qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito imposta quindi quando avevamo fatto il primo adempimento quindi ho riportato un esempio di quella che a mio avviso potrebbe essere una dicitura da riportare quindi abbiamo bene agevolabile essenzio l'articolo 38 del decreto legge numero 19 del 2024 e il codice identificativo TR5 con il codice rilasciato dalla piattaforma l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili a corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale di conti attenzione alle tempistiche vi riporto qui l'esempio di 4.0 per capire quelle che sono le differenze allora con l'industria 4.0 come sapete abbiamo una finestra di utilizzo che può arrivare fino al 30 giugno 2026 nel caso in cui si effettui la prenotazione con il versamento del 20% e l'accoglimento dell'ordine da parte del fornittore entro il 31-12-2025 e poi in realtà abbiamo anche un ulteriore differimento per quelli che sono i termini di interconnessione sul quale lascio un approfondimento a parte però vedete insomma che abbiamo una certa dilatazione del termine ultimo per quanto riguarda invece transizione 5.0 posto diciamo che la prima parte del 2024 ce la siamo già sostanzialmente giocata anche se per la verità sono comunque ammissibili anche quegli investimenti la conclusione dell'investimento deve avvenire obbligatoriamente entro il 31-12-2025 quindi abbiamo una finestra che è sostanzialmente più stretta rispetto a quella di industria 4.0 attenzione poi che c'è una piccola deroga per quanto riguarda le comunicazioni da fare al GSE però è veramente molto risicata perché la comunicazione al GSE deve essere inviata entro il 28 febbraio del 2026 e quindi sono solo due mesi dalla chiusura diciamo dell'anno e quindi attenzione che è una data che è una scadenza che non è comoda quindi occorre per risporsi per avere già le documentazioni pronte nel momento in cui c'è la conclusione dell'investimento o pochi giorni dopo quindi attenzione per quanto riguarda la programmazione un'altra cosa alla quale fare particolare attenzione è che la norma prevede che possa essere agevolata un solo progetto alla volta e vediamo cosa scrive la circolare operativa il medesimo soggetto beneficiario può completare in ciascuna annualità compresa nell'ambito temporale 2024-2025 uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive nel limite massimo complessivo dei costi ammissibili pari a 50.000 euro indipendentemente dalla data di avvio del progetto fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 4 del DM transizione 5.0 i progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolabili quindi per ogni struttura produttiva interessata può esserci attivo solo un progetto di innovazione ad eccezione nel caso in cui si erano intervenute le cause di cui l'articolo 12,9 del DM transizione ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati quindi una volta come detto prima un progetto alla volta quindi se è completato possiamo partire con uno nuovo oppure abbiamo avuto gli esiti di scarto da parte della procedura del GSE e in relazione ai quali il credo imposto è utilizzato in compensazione essenza dell'articolo 12,7 del DM transizione 5,0 facciamo anche qui un parallelo con Industria 4,0 per riepilogare e capire meglio questo concetto con Industria 4,0 potevamo tranquillamente partire con l'ordine a conferma di un macchinario in settembre 2024 con conclusione di investimento prevista per agosto 2025 poi nei successivi due mesi partire con un ulteriore ordine per un altro macchinario con consegna ottobre 2025 poi arriva un ordine un regno della necessità partiamo con un nuovo ordine il primo gennaio del 2025 e così via con altri investimenti distribuiti nel tempo ecco quindi tutti questi investimenti per quanto riguarda Industria 4,0 sono ammissibili se passiamo a industria diciamo a transizione 5,0 vediamo che di ammissibili con questo schema abbiamo solo il primo investimento e il quarto investimento perché il quarto perché è stato concluso l'investimento precedente e quindi deve essere conclusa anche la procedura però tutti gli altri sono esclusi anche in questo caso ho aggiunto anche il fotovoltaico previsto in ordine a luglio del 2025 che rientra tagli esclusi non l'ho messo sul 4,0 perché come detto non rientra in quella agevolazione ecco quindi attenzione a come vengono impostati i progetti in questo caso per far rientrare quasi tutto dobbiamo ragionare come un unico progetto di investimento quindi partire con settembre 2024 già prevedendo tutti gli investimenti successivi quindi nel secondo bene nel terzo bene purtroppo il quarto bene diciamo arriva in consegna dopo il 31-12-2025 quindi non è ammissibile a transizione 5.0 lo andremo ad incentivare con il 4.0 eventualmente e in questa configurazione anche se l'impianto fotovoltaico sarà installato a luglio del 2025 ma l'ordine deve essere già avviato ovviamente a settembre quindi il progetto deve essere già attivato a settembre 2024 in questo caso invece avremo tutto quanto questo pacchetto di investimento che è ammissibile quindi attenzione a progettare bene quello che è il pacchetto di investimenti da portare in agevolazione concludiamo con alcuni consigli su come affrontare questo credit imposta a transizione 5.0 come avete capito in questo caso è particolarmente importante avere un approccio progettuale e non di singolo macchinario ho detto prima che è ammissibile anche il singolo macchinario però diciamo lo sconsiglio se per caso avete intenzione di fare anche altri investimenti e se quel macchinario ha tempi di consegna che sono magari magari lunghi quindi fare una valutazione di quelli che saranno gli investimenti che farete da qui a fine 2025 attenzione che in questo caso bisogna ragionare più come un bando che come una norma automatica come quella che era il 4.0 quindi anche le competenze di cui avete necessità sono diverse quindi il consulente che vi seguirà o la società di consulenza che vi seguirà deve avere anche la capacità di gestione di bandi quindi con questo tipo di approccio che avete visto anche nella descrizione precedente quindi avere anche la capacità di gestire una norma che evolve nel tempo e degli addempimenti che sono scadenziati in tutta la durata dell'investimento come detto occorre partire con la pianificazione del progetto per i prossimi due anni con l'attenzione appunto che veniamo bloccati per tutto il periodo di esecuzione del progetto quindi non potremo lanciarne altri sulla stessa struttura produttiva considerare i tempi tecnici della pratica attenzione non aspettatevi che la comunicazione ex ante venga fatta il giorno dopo in cui avete affidato l'incarico perché come avete visto ci sono numerosi documenti da raccogliere e degli addempimenti e delle verifiche tecniche da fare che porteranno via molto tempo quindi adesso per l'avvio delle richieste ma soprattutto quando i fondi cominceranno a scarseggiare l'invito è quello di prendersi per tempo quindi avviare per tempo questo tipo di attività e è scontato diciamo a questo punto occorre coinvolgere da subito il consulente quindi se avete piacere di essere seguiti da noi chiamateci subito anche se avete dei progetti che sono solo in bozza perché possiamo aiutarvi a definirli e a strutturarli in maniera efficiente anche valutando quelle che sono le cumulabilità ammissibili vi ho già detto nel caso dell'impianto fotovoltaico se quello è il vostro obiettivo comunque chiamateci perché possiamo valutare assieme come farlo rientrare diciamo attraverso dei beni in allegato A e B che magari diciamo incidono poco rispetto all'investimento che avete previsto in fotovoltaico e che comunque vuol dire vi consentono un incentivo dell'impianto che è assolutamente importante e notevole e quindi diciamo ecco quindi questa è la diciamo l'invito conclusivo consultateci prima di avviare già diciamo in questi in questi in questi momenti sotto a queste slide trovate a questo video trovate anche i link al schema di calcolo quindi se volete fare qualche simulazione per capire quello che è il beneficio ottenibile da questa norma avete la possibilità di avere questo file excel e trovate anche un questionario che vi invito a compilare per farmi capire se questo webinar vi è piaciuto e se avete anche piacere di avere ulteriori approfondimenti dirmi anche le tematiche che ritenete particolarmente interessanti da approfondire sia nell'ambito della transizione 5.0 che nell'ambito di altre agevolazioni avete anche lo spazio per inviarmi qualche chiusito che ovviamente deve essere semplicemente rispondibile perché altrimenti occorre evidentemente che ci fissiamo un incontro una colla di approfondimento vi ringrazio quindi di essere arrivati fino a questo punto con me per l'analisi di questa agevolazione molto importante vi lascio qui di seguito quelli che sono i miei riferimenti che comunque trovate anche nel sito retteagevolazioni.it io sono Franco Rasotto questa è Retta Agevolazioni e ci vediamo per le consulenze su questa su questa norma a presto su questa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.